Giovani, spesso di ritorno da viaggi e non vaccinati. Questo è l'identikit dei contagiati con variante Delta e Gamma, per intenderci quella indiana, presenti ad oggi all'interno del territorio dell'Ulss 7. Quattro casi per il momento che comunque non inducono alla tranquillità, perché il virus c'è e continua a circolare. Ad oggi abbiamo registrato, nelle ultime due o tre settimane, tre casi di variante Delta e una di variante Gamma. La variante Gamma è quella indiana. Si tratta per lo più di persone giovani, quasi tutte, non tutte, si sono spostate per viaggio o per lavoro e sono tutte al momento non vaccinate. La dottoressa De Stefani sottolinea come non si possa escludere che anche persone vaccinate possano contrarre alla variante Delta o Gamma, specialmente persone che non hanno risposto bene alla vaccinazione. Sta di fatto che il vaccino resta l'arma migliore per difendersi. Sono aumentati i casi dei positivi, tutti i positivi vengono comunque sequenziati e questi nuovi positivi, che sono stati 17 da venerdì ad oggi e che la maggior parte dei quali 10 concentrati nella giornata di ieri, anche queste persone giovani che tornano da viaggi non vaccinate. Vi aspettate un picco o un aumento dei casi dopo i festeggiamenti che ci sono stati post-vittoria degli europei? Sì, purtroppo sì. Stiamo qua ad aspettarci un aumento. Vedremo i risultati di questi festeggiamenti fra una settimana o due. Sicuramente ci sarà un aumento dei casi. Speriamo non siano anche tutti di variante indiana.